Arnold Classic per Giorgin per i men's open anopena concluso e come abbiamo anticipato i primi due sono Hardy e Samson Dawarda hanno fatto i primi call out, per il primo call out sono in quattro, Samson Dawarda, Hardy Chupan, James Halashid e Jonathan praticamente quasi come Arnold Classic di quello lì americano, però qua si vede che Samson ha migliorato, però secondo me Hardy Chupan è ancora avanti, però secondo me è più vicino qua Samson verso Hardy di cosa abbiamo visto in America perché mi sa che Samson qua è più tirato, si vede suo addome meglio anche tanti dettagli sulle gambe, però Hardy mi sembra un po' più soft qua di cosa era in America, però secondo me perché questo qua è più Giorgin e hanno ancora il finale domani però i metri quando posavano sono diventati un pochettino più duri durante le pose e Hardy ha iniziato a diventare come Hardy prima, però qua si vede veramente su questo side shot come i loro due sono messi, secondo me Hardy ancora ancora avanti Samson Dawarda, però credo che Samson Dawarda ha migliorato però hanno fatto un secondo call out con Antoine Veier, Hakim Williams, però hanno aggiunto anche Jonathan James Halashid pure, anche c'era Shaban su quella call out lì non si sa chi arriva alla quinta posizione, secondo me loro sono guardando Hakim Williams per arrivare alla quinta posizione non lo so, ditemi la vostra cosa ne pensate di questo pre-judging di Arnold Classic UK secondo voi Hardy Chupan ha vinto ancora o secondo voi è più vicino di quello lì americano e non si sa ancora chi vince ditemi la vostra, sono Terinati, iscrivetevi sul canale se non siete ancora iscritti mi dà uno grosso mano, let's go